Il ricordo degli anni 80 è legato soprattutto ad eventi sportivi quali la vittoria della nazionale italiana nei mondiali di Spagna e il gran campionato del Catanzaro 1981-82 che si piazza settimo in classifica quindi il più bel campionato di serie del Catanzaro quindi questi due sono gli eventi sportivi degli anni 80 a me più vicini